Grazie a tutti. L'Università Bicocca di Milano ha pubblicato un sacco di cose, siccome abbiamo poco tempo, risparmiamo la presentazione, è un calonico anche e gli diamo subito la parola perché ci parlerà appunto di fare il moglia oggi. Buongiorno a tutti e a tutte, io credo che siete stanchi e stanchi, vi chiedo però un po' di pazienza di provare a seguire il ragionamento che cercheremo di fare. In Argentina, un giorno di sole, un ragazzo di 26 anni, si chiama Ireneo Funes, decide di approfittare della bella giornata per fare un giro a cavallo nella banda argentina. Prende il suo cavallo, a un certo punto è il cavallo inciampa e Ireneo Funes cade e batte la testa. Nel momento in cui si batte la testa c'è il rischio di perdere la memoria. Invece Ireneo Funes ha esattamente l'effetto opposto, perde la capacità di dimenticare. Cioè da quel momento questo giovane argentino ricorderà tutto, tutto quello che vedrà, tutto quello che incontrerà, non avrà più la capacità di dimenticare nulla. Dopo qualche settimana il mio Funes si si chiude in casa, basta le tapparelli, vive un agugno, sta straiato per tutto il giorno su un divano. Agli amici che vanno a trovarlo chiedono di rimanere assolutamente immobili perché dice ogni movimento, anche solo con il tuo dito, resterà impresso nelle mie memorie per tutta la vita. E durerà più delle piramidi di Egitto. E a un amico che va a trovarlo dice ormai la mia memoria è un deposito di rifiuti. Questo è un racconto di un autore importantissimo, un autore argentino, Jorge Vibor, che è una nuova per la letteratura, uno dei più grandi scrittori del XX secolo. E' un racconto che si intitola, nell'originale spagnolo, la traduzione italiana non rende, Funes, quindi il nome del ragazzo, è il memorioso. Il memorioso. In italiano è tradotto Funes o della memoria, che non è una traduzione, era anche difficile. Funes è l'uomo della memoria, è il memorioso, è quello che porta tutto. Eppure, questo bellissimo racconto, ci rappresenta come una persona distrutta, una persona che non riesce più a vivere, una persona che è soffocata dalla memoria. Allora, un convegno sulla memoria, iniziare con questo racconto potrebbe sembrare il provocatorio, ma invece l'ho fatto perché noi dobbiamo ricordarci che per ricordarlo occorre dimenticare. La memoria richiede anche l'obbligamento, non esiste memoria senza dimenticanza. E poi vedremo tra poco di entrare bene in questi tempi. E anche queste parole, vorremmo un'analisi del linguaggio. Ma, un passo indietro, ci sono dei nemici della memoria. Dei nemici della memoria che noi incontriamo quotidianamente, che voi ragazzi, secondo tutti, incontrate quotidianamente. Un nemico della memoria è un certo modo, e sottolineo, un certo modo di fare scuola. Faccio qualche esempio. Un ragazzo di terzo dicio scientifico studia, questo è un programma di un paio di anni fa, la storia della filosofia greca, la storia dell'arte di Nascimentale, la letteratura italiana del Trecento e la storia d'arte antica, diciamo dalla cote dell'impero romano. Cosa c'entrano, l'uno con l'altro? Come si fa a passare da Raffaello a Zenone? Come si fa a passare da Omo Augusto a Aristotele? Un'ora con l'altro, con l'intervallo magari di mezzo. Poi qualcuno dice, ah ma la scuola italiana è il pianto storicista, non lo facciamoci, ma noi diciamo stupidaggi. La scuola italiana non c'entra niente con la storia. Si studiano le cose senza relazionare tra loro. Facciamo qualche altro esempio. Voi studiate Tarete, il teorema di Tarete, in geometria. Voi studiate Tarete, primo che si studia di solito, in filosofia, raramente sapete che è la stessa persona, ma raramente capite che cosa c'entra il teorema di Tarete con l'acqua, con l'arche. C'entra tantissimo. Ma i video non ve lo dicono. Alcuni, adesso sì. Voi studiate Zenone, filosofo, importante, e ma non so, quindi studiate la sua filosofia, in realtà si studia poco Zenone, ma raramente gli dicono che Zenone, filosofo, quando viene chiamato dal tirano Dionigi, Zenone sembra che fosse un grande parlatore, e il tirano di Siracusa gli dice, vieni alla mia corte e fai il mio portavoce, fai il mio agente di stampa, se chiamerebbe oggi. E lui gli dice, no, ma io ti parlo, ma io non so di vendita, ma io non compro te, io compro la tua lingua. E Zenone si è morsicato un pezzo di lingua e lo ha sputato in faccia. La filosofia di Zenone, che piaccia o no, non si può capire, senza capire il gesto eroico di uno che sputa in faccia a un tirano che ci dettiva due secondi a farti decapitare per un gesto del genere. Poi non l'ha fatto Dionigi, non si sa perché. Ma come si fa a capire la filosofia di Zenone senza capire la sua vita, la sua storia e questo gesto politico di grande resistenza? La scuola molto spesso, tranne alcuni insegnanti che lo fanno, non fa questa cosa. Io ho parlato della filosofia, voi non studiate storia della filosofia, tranne i cari insegnanti, studiate storia delle idee, ma le idee, mica, che non è che Aristotele viveva su una nuvola, e anzi Platone viveva su una nuvola, gli sono venute alcune idee. Poi nella nuvoletta di fianco c'era Aristotele che lo criticava, in un cielo di idee. Ma Platone gli sono venute alcune idee, ma quando usciva di casa veniva una certa situazione politica. L'Aristotele comincia a lasciare termine un'altra, e così Eger, e così Kant, e così Marx, e così Sartre, e così Abelardo e Llorisa. Voi studiate la fisica, la matematica, la chimica, ma non studiate la storia della fisica, la storia della matematica, la storia della fisica. Fincicolo della termodinamica, a un certo punto si è alzato una mattina, a un'altra e ha detto, ah, ragazzi, oh, una sigla, una sigla, una sigla, non si distrugge, eh? Così, perché? Eh, il mio giorno aveva voglia di dire questa cosa. Ma c'è una storia della legame tra la fisica e l'industria, tra la fisica e la politica, che porta questa persona a fare questa scoperta e a fare questa considerazione. Allora, la scuola, che è un posto bellissimo, io sono un uomo di scuola, però molto spesso evita l'amore, perché non presenta la storia, se non nell'ora di storia. Nell'ora di storia facciamo storia. Per il resto, le idee scoperte, i principi, cadono giù dal cielo come la manna nel deserto. E poi il web, è un grande nemico della memoria, non ho molto tempo per sviluppare questo concetto, però bisogna stare molto attenti, il web è orizzontale. Io posso sapere adesso, in questo momento, il tempo reale che tempo fa in Borneo, a parte il fatto che questa informazione è totalmente inutile. Allora, io credo di mandare in Borneo per fare una vacanza, ma loro possono tranquillamente comprare un giornale. Però, la dimensione della memoria in un sito, perché il sito che ho aperto oggi è diverso da quello di ieri? Chi ha agito su quel sito? Perché ha tolto quella notizia? Non si sa, è tutto orizzontale. Non ho tempo di approfondire questa cosa, lo faremo in un'altra conferenza, noi ci vedremo a dire perché è importante. Allora, cominciamo a ragionare sulle parole, che le parole hanno una storia, eh? L'etimologia, tanto cara al popolo ebraico, per esempio, l'etimologia si è liquenta, l'etimologia, il popolo ebraico è quella parola Italia che non è vera, è inventata, è troppo bella. Italia, il paese della rugiada di Dio. Bellissima, inventata, veramente bella. Diveressera sottolineata. L'etimologia ci aiuta a capire la storia delle parole. Allora, memoria, ricordo, non sono la stessa cosa, non sono assolutamente la stessa cosa. In italiano è molto forte la differenza, in altre lingue magari meno. Partiamo da ricordo, possiamo dire ricordare. Cosa ci dice l'etimologia? Voi farlo, come di voi, fa latino, se fate al liceo. Ricordare, rimettere nel cuore, mettere un'altra volta dentro il cuore. Attenzione ragazzi, che la parola cuore nelle culture antiche sempre significa, certo, emozione, sentimento, ma anche ragione. Si pensa col cuore, si ragiona col cuore. In inglese, in parola memoria, si dice non va ai pari, in francese, par coeur. Quindi il cuore conosce, il cuore ragiona, il cuore pensa e anche ama, odia, si namora, eccetera. Quindi, ricordare significa rimettere qualcosa dentro il cuore come sede anche della ragione. Però, chi di voi suona uno strumento a corde, sa cosa vuol dire accordare una chitarra. E sa cosa vuol dire quando due chitarre sono perfettamente accordate. E se voi toccate, fate vibrare, una corda della chitarra che ho qui senza toccarla anche l'altra corda, la stessa corda dell'altra chitarra si mette a vibrare, è una legge di trasmissione fisica, no? Le due chitarre vanno d'accordo tra loro. Cosa vuol dire andare d'accordo con un amico? Sentire vibrare la propria anima all'unissima. Vediamo una cosa, senza parlarci, sappiamo le stesse emozioni, con un amico, con un fidanzato, con una fidanzata. E andare d'accordo. Invece no, su questa cosa siamo in disaccordo. La mia anima non vibra come la tua. Allora discutiamo di chi di anima. Allora, ricordare vuol dire vivere una situazione, oggi, adesso, qui, che fa vibrare, e quando parlo di anima ne parlo di sesso laico, non potete intendere il sesso psichico, però anche qualcosa di più, fa vibrare, qualcosa dentro di me, esattamente come vibrava quando l'ho vissuta precedentemente. Faccio un esempio. Vado in una strada in primavera, sto pensando a tutt'altro, sento un profumo, e mi ricordo un momento della mia infanzia. Proust, la ricerca del tempo perduto, il personaggio che va a casa della zia, sta pensando a tutt'altro, la zia gli offre un biscotto da intingere nel tè, lui non ha in mente la sua infanzia, è il paese dove ha passato le vacanze della infanzia, però in quel momento sta pensando ad altro, mangia il biscotto, il sapore del biscotto, immediatamente, non immediatamente, immediatamente, senza intervento della ragione, adesso voglio ricordare, no, è l'infanzia che vi salda addosso, e inizia il lavoro della ricerca del tempo perduto, ma inizia senza intervento di accoglie, succede con i sapori, succede con i profumi, uno ha una fidanzata, gli sta insieme un po' di anni, poi la lascia, per anni non ci pensa più, poi sente passare davanti una ragazza che ha lo stesso profumo, e immediatamente comincia, magari a testare male, e poi il ricordo, non voglio ricordarla, ma non lo dici mica tu, il ricordo, il ricordo ti salda addosso, Proust la chiama, che potrebbe memoria involontaria, che abbiamo ricordo, cos'è allora la memoria, memoria non è molto sicuro da che cosa derivi, dal sanscrito, la parola memoria deriva da dottrina, qualcosa da insegnare, insegnare, segnare dentro, ma tra l'altro la parola memoria ricorda anche memosine, che è in Grecia, colei che insegna a noi la scrittura, quindi la memoria, a differenza del ricordo, è pubblica, vale per tutti, il mio ricordo ve lo tengo io, a me il profumo suggerisce una cosa, a questo ragazzo ne suggerirà un'altra, alla collega magari niente, e se sarà un altro profumo, la memoria invece è pubblica, perché va scritta, e deve essere condivisa, o conflittuale, ma non me la tengo per me, fare memoria vuol dire allora sapere scrivere, scrivere come vorrei dire scrivere un saggio, scrivere un racconto, una sinfonia, un quadro, un balletto, qualunque forma di scrittura, nel senso, ampio del termine, ora capite che tra ricordo e memoria, c'è una differenza, la memoria è oggettiva, nel senso che produce degli oggetti, dei documenti, il ricordo è soggettivo, nel senso che è dentro di me, il problema, se noi, lasciamo separate queste due dimensioni, è un problema enorme, perché i ricordi, che non diventano le moglie, si perdono, se Proust, avesse assaggiato il biscottino, a essere vissuto la sua infanzia, un'altra volta, e poi fosse tornato a casa, avesse fatto il bancario, noi non sapremmo nulla di questa cosa, Proust poi aveva un problema, come faccio io a tradurre questo ricordo intimo, in una scrittura, in un libro, anzi, in sette libri, nella recherche, che potranno essere retti per i prossimi segni, quindi i ricordi, se non diventano memoria, si perdono inevitabilmente, perché i profumi sbagliscono, i sapori se ne vanno, le stagioni passano, arriva la morte, e i nostri ricordi, con la nostra morte, a parte chi crede, naturalmente, con una vita futura, ma per quello che ne sappiamo, i nostri ricordi scomparliano con noi. La memoria, senza il ricordo, è arbita, chi fa la quinta ricorderà Kant, quando dice le sensazioni, senza concetti, se non c'è, eccetera, eccetera, spero ricordate Kant, spero che c'era uno che si chiamava Kant, che faceva il filosofo, anche il popresso, faceva il filosofo, che era così preciso, che quando usciva di casa, nel suo villaggio di Königsberg, a parte della passeggiata, le 5, i suoi concittadini regolavano gli orologi, poi è uscito Kant, sono le 5, mettiamo a posto gli orologi, sembra che sia vero, comunque, ma è gentile, simpatiche su questo, questo grande filosofo. quindi, la memoria, senza il ricordo, è aria, ve l'avete ad esempio, quando imparate, i ragazzi che hanno fatto l'esame di guida, o che stanno facendo l'esame di guida, imparate la memoria, non soltanto la teoria, ma anche il modo di migliorare, non so se è ancora così, con le mani sulle 10 e un quarto, queste sciocchezze totali, imparate soltanto per quel momento, e poi non vi servono più, perché non solo il ricordo, non vi fate emozionare, oppure quando preparate, sì esatto così, sarei sicuramente promosso, sarei di guida, non viverei mai così, per tutta la tua vita, nemmeno per sbaglio, e poi si guida così, con il cellulare, che scelta del corpo, queste cose criminali, che noi facciamo, però esatto, hai fatto molto bene, la memoria, senza il ricordo, è quella che voi ragazzi, mettete in capo, quando studiate, qualche cosa, sono unicamente per, oh, morto il mio, ricevi benissimo, grazie, quando studiate, quando studiate qualche cosa, unicamente per prendere un voto, no? E non ve ne frega niente, dopo due giorni, l'avete già dimenticato, perché l'avete dimenticato? Perché non vi ha emozionato, non ha fatto privare il vostro cuore, l'importante è provare a unire, queste due dimensioni, ricordo, e memoria, insieme, e questo serve per le cose di cui stiamo parlando oggi, perché ci sono un paio di questioni, questo cortocircuito ricordo memoria, io posso farlo per me, allora, io ho sentito un profumo di glicini, che mi ricorda quando da bambino andavo in campi, a giocare a quadrone, scrivo una poesia, faccio un quadro, faccio una sinfonia, e semplicemente scrivo una lettera, ad un mio amico, dicendo, ti ricordi, è già memoria, è lì, ma la lettera rimarrà, e il profumo svanirà, però vissuta io, come faccio io, questo è il grande problema, a ricordare una cosa che hanno vissuto altri, che sono morti, noi non siamo partigiani, io sono nato molti anni dopo, non sono stato ovviamente partigiano, semplicemente perché non c'era, come si fa a ricordare al posto di un altro? Come facciamo a far diventare ricordo le cose di cui abbiamo sentito parlare prima? Questo è il problema, e proviamo, proviamo, in carattere che ci riusciamo a capire. Prima di tutto, la questione del tempo, 70 anni, sono tanti, basta, basta, è finita la quarta cosa dei partigiani, abbiamo capito, i nazisti erano cattivi, i partigiani erano buoni, ma basta, non ci riguarda più, noi vogliamo storia attuale, il problema ragazzi, che io non lo sento dire dai studenti, a Brescia, ma lo sono sentito dire sulla strage di casa della Loggia, cioè, sempre più, quello che è successo ieri, non ci interessa più, perché è lontano, però questo effettivamente è lontano. Ragazzi, della vostra età, c'è 7-18 anni, quanti ne avete, come si può pensare che si appassionino a cose che successe 70 anni fa? Ma è proprio vero che è così. Beh, non so chi di voi è appassionato di basket, il basket americano, professionistico, nella NBA, c'è una squadra, che adesso un po' a disgrazia, ma è stata fortissima in tempo in cui ero, molto più giovane, la squadra di Philadelphia, si chiama i 76ers, Philadelphia 76ers, hanno il numero 76, stampato sulla maglietta. perché si chiama i 76ers, che vuol dire non Philadelphia 76ers, ma quelli del 76ers. Se uno è andato a Philadelphia, in qualunque partita, casalinga dei Sixers, e chiedendo a qualunque ragazzino di 13 anni, se è un tifoso di Philadelphia, che si è un cappellino, non una magliettina, certo. Ma perché si chiamano così? Perché nel 1776, viene firmata a Philadelphia, la dichiarazione di dipendenza, e racconta tutto, la ragazza racconta la storia, e si emoziona. la mia squadra, oh, l'abbiamo firmata a Philadelphia, la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti, non una cosa poco importante, non a Los Angeles, cioè una ragazza di valità, no? Quindi Los Angeles siamo di Lecce, a squadre dei lati, vabbè, fate pure il bagno, pescate il pesce, ma noi abbiamo la storia americana, e si emoziona. Se invece andate a Tel Aviv, incontrate il Maccabi, non Maccabi, per favore, il Maccabi, è la mia squadra molto forte, che è la storia più forte, c'è anche la storia di calcio, per il basso più forte, libero europeo, i Maccabi, chiedetelo ragazzino, scusa, tu sei un tifoso, perché? Perché i Maccabi, liberarono Israele dal dominio degli ellenisti, 150 anni prima di Gesù, che questi ragazzi, conoscono, e gli avrei vabbè, ce l'hanno proprio molto forte, questa dimensione della memoria, ma conoscono la storia del loro paese, non 70 anni fa, 2000 anni fa, perché c'è una squadra di basket, che fa vibrare il loro cuore, come vibrava il cuore dei Maccabi, 2000 anni fa, certo, adesso, l'impresa gloriosa, è battere il CSKA, i soci in campo, però comunque, sono i Maccabi, la forza, i 76ers, in nome degli Stati Uniti, vincevamo noi il campionato, non quelli di Miami, ragazzini, più giorni di voi, allora, ricordo la memoria, se noi, e questa è la responsabilità nostra, mi ricordo i colleghi, è totalmente responsabilità nostra, di noi adulti, insegnanti o meno, ai genitori, adulti, se noi non facciamo vibrare i loro cuori, non allo stesso modo, perché non ci sono i fascisti, i mangaleri che ci picchiano, perché non c'è più il Duce, però, se noi non troviamo, nelle storie di questi ragazzi, di questi ragazzi, di questi luoghi, qualcosa che riguardi questi ragazzi, e non facciamo questo ponte, ma si studieranno la resistenza, prenderanno anche nove, nei compiti in classe, prenderanno trenta e nove, nel mio esame, però non gli importerà nulla, la resistenza non è il Manos, io ho mangi di stomaco, con un po' di gastrite, il mio medico quando dico, ho un po' di gastrite, sarà l'aglio sempre, perché dice, a me che c'è un po', la gastrite o ce l'hai o ce l'hai, ma io dico che un po', così non faccio la gastroscopia, non esame, non allungo il mio peggior nemico, che è orrendo, e qui prendo il Manos, e mangio la pastichetta d'alciore, che si vede in farmacia, dall'altro senza ricetta, la prendo, mi passo il mangi storico, io non so cosa fare con la pastichetta qua dentro, che è un solo chimico, ma non mi importa niente, del processo, fastidia, meno l'aglio stomaco, sono tranquillo, ma i bucani ragazzi, non vuoi mica niente questo, costituzione, ragazzi guardate qua, costituzione, tutti democratici, tutti antifascisti, per fortuna non succede così, perché sono persone, e non sono ulcere, ma ulcere, castrite, della sciocca, non sono lesione allo stomaco, diciamo, ve lo facciamo poco avanti, con il male, allora bisogna fare questa operazione, vi faccio soltanto un esempio, perché è tardi, ma, io ho lavorato molto sulla resistenza, ma soprattutto sulla Shoah, la Shoah, la giornata della memoria, io trovo sempre, che sia un costring, non la giornata della memoria, un certo modo di, celebrarla, un costringere la gente a ricordare, a emozionarsi, a dire come erano cattivi nazisti, allora tu vai in una scuola, parli dello sterminio degli omosessuali, terza categoria sterminata dai nazisti, dopo ebrei e comunisti, gli oppositori diciamo, e vedi i ragazzi, in pieni altri, fai vedere un film, c'è un bellissimo film, anzi, non è un film, sto con teatrale, va bene, che parla di uno sterminio, di gli omosessuali, attraverso due ragazzi, una coppia di amanti, uno sessuali, gli omosessuali, i ragazzi piangono, poi escono, vedono un loro compagno, che inadvertitamente, oppure anche, dà una pacca sul sedere al suo compagno, ah ah curatore, capite che non è ricordo a memoria, ci sono ignorati completamente, perché se tu ti emozioni alla vista di come trattavano gli omosessuali, come fai poi, a insultare il tuo compagno, presuntamente o realmente omosessuale, e non facciamo che rivedere, Betty, Martin, Shermer, facciamogli studiare i marzoni, che va bene, perché male non fa, un po' per male, ma non ci sono, anche come sapore, un po' dolciastro, però insomma male non fa, se va, allora secondo me, questo vale per i marzoni, questo qui riciclo vale per tutto, i ragazzi non imparano niente, se non riusciamo a toccarli, nei punti più profondi, nei loro anni, neanche le radici quadrate, neanche la formula chimica, la struttura chimica di una molecola, la imparano, la tengono lì, la mettono nel compito e prendono la morte, ma non diventeranno dei chimici che si emozionano davanti a una molecola, perché invece i grandi chimici si emozionano davanti a una molecola, Turing diceva, io davanti a una formula chimica mi emoziono, come tu davanti a una poesia, diceva al suo compagno, mi diceva, di High School, è l'esempio della Shoah, io dico sempre ai miei studenti, anche ai ragazzi di primo anno molto nella scuola, come stamattina, ai ragazzi di quattro giorni, come voi, ma anche più piccoli di voi, quando gli dicono, la Shoah, la prima cosa che facevano nei deportati era farli spogliare completamente, non bisogna chiederci come si sentivano loro, perché è impossibile sapere come si sentivano loro, ma proviamo a pensare, la prima volta che nello spogliatorio di calcio a 12-13 anni ci siamo denudati davanti ai compagni anche con la vergogna di farlo, come ci siamo sentiti? Come li sentiamo quando dobbiamo eseguirci in un di in pubblico oggi soltanto per attraversare la doccia? Come facciamo a suggerare questa cosa? Io ho fatto un allenatore di basket per 20 anni, ragazzini di 13-14 anni che si vergognano a fare la doccia in un di, fanno la doccia di mutante e quelli di loro capiscono cosa non dire essere denudati pubblicamente davanti a 50 persone con i nazisti perfettamente vestiti che ti prendono pure in giro, ma lo capiscono partendo dalle loro intante, dalla loro vergogna, dalla mia, dalla vostra e si fa il corto circuito, che non vuol dire che la stessa cosa essere venuti in una doccia di un arrivamento di calcio o essere venuti in una doccia di altri, per la carità, ma se non passi dalla prima doccia non capisci la seconda, ma capisci, non la capisci veramente, sai che diventavano, che cattivi, ma non è questa la memoria, questo non è, questo non è niente, prima si diceva non si resiste se non si spera, non si ricorda se non si spera, la memoria è legata alla speranza, io ricordo una cosa bella perché voglio liquida, la ricordo una cosa brutta perché voglio che non si ripeta più, se fossimo condannati a rimanere nel presente non ci serverebbe a nulla perché non avrebbe nessun senso. Io ho accompagnato un gruppo di gruppo, 600 ragazze ad Auschwitz un mese fa in un progetto bellissimo e quando siamo arrivati io ho fatto un percorso di formazione con loro, alcune di loro li ho accompagnati su e ho fatto una serata insieme, prima della visita ho visto i campi con loro siamo ritornati e poi sono arrivati una quarantina di loro in università, ragazze della nostra età anche più giovani per un incontro di com'è andata e mi ricordo un ragazzo di quarta o di quinta superiore che diceva è andata bene, è stato bello però io davanti al campo non ho provato niente ma come mai? Perché per tre mesi tutti i giovedì a scuola ci facevano vedere i film sulla Shoah e io non ne potevo più e questo è il modello Manus ma perché? è il modello funesse funesse ti riempio la testa di memoria arrivi lì non ti emozioni più non scatta più niente sei saturo sei saturo il confronto è una fede alcuni colleghi fanno questo ma non è che ogni giorno dire ai ragazzi è il problema sacrato e il partigiano eroico abbia un facciamolo presentiamoli uno ma presentiamoli la persona gli dico sempre ai miei amici dell'AMPI diciamo che i partigiani avevano paura avevano paura erano in montagna dicevano porca mi dicevano quanto mi piacerebbe essere era domenica e pomeriggio di primavera essere in un prato con la mia fidanzata a fare un amore invece sono qua questi bastardi qua li costringono questi bastardi questi bastardi non perché hanno creato una dittatura certo ma perché a me costringono a stare qua invece di fare un amore con la mia ragazzi che non è l'unico motivo ma è il motivo esistenziale due cose ancora perché abbiamo parlato di dimenticare de menticare e nella Bibbia nel Bibbio della Genesi c'è un curioso passaggio a un certo punto Giuseppe l'interprete di sogni che è adesso in carcere da farla e incontra due suoi compagni di detenzione che gli raccontano due sogni che hanno fatto uno e uno al primo dice io l'interprete al primo dice questo sogno vuol dire che tu sarai decapitato dalla sua madre e si incide al secondo dice questo sogno vuol dire che il faraone ti libererà dalla prigione e questo secondo gli dice guarda se succederà io mi ricorderò di te mi ricorderò di te mi dirò al faraone di liberarti viene liberato e da Bibbia dice dove ne lo trovo il gran compiere però non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò perché ha una ripetizione i rabbini dicono che anche Gesù che nella Bibbia non c'è neanche uno iota neanche una virgoletta in più di quello che deve esserci ora gli ebrei quando cominciano a domandarsi qualche cosa è la ripetizione è una ripetizione è diverso non ricordare da dimenticare non ricordare significa che abbiamo il cervello finito che non ci sta dentro tutto e quindi non ricordare perché qua mi compiuto la chiave metto usb vi dice spazio sufficiente qualcosa rimane fuori che cosa? è casualmente l'ultimo far che stavi salvando per cui ho studiato tutto il giorno ma questa data non me la ricordo ma per fortuna ho studiato 50 la 51esima rimane fuori dimenticare de-menticare togliere dalla mente è un gesto attivo io decido di dimenticare magari inconsciamente perché dimentichiamo i sogni? perché il nostro inconscio capisce che sono troppo comosciosi che pongono un problema troppo grosso che ci potrebbe star male ricordarli e ce li cancella ma poi dice in parte altro di questo allora dimenticare la scelta perché è importante anche dimenticare per ricordare scusate ragazzi se siete eroici nella vostra attenzione davvero ringrazio ancora proprio tre o quattro ore visto che siete eroici perché hanno dato stitare scherzo cosa vuol dire dimenticare facciamo un esempio quotidiano un vostro amico amico intimo con il quale andate d'accordo vostro amico fraterno durante la discussione vi dà lo schiaffo lo schiaffo forte si può perdonarlo si può dimenticare e per perdonarlo in qualche modo bisogna dimenticare ma non subito prima di tutto ti deve passare il rosso sulla guancia perché se ti guarda allo specchio per perdere cinque dita il tuo corpo ti richiama a quanto è stato cattivo per il tuo amico quando è scomparso il seme delle dita quando è scomparso il bruciore quando la ferita non brucia più non solo quella fisica cioè quando in qualche modo hai preso un po' le distanze allora forse poi vedremo cosa vuol dire forse ma poi cominciare a dimenticare io trovo incredibile che appena succede una tragedia no? ammazzano uno dopo Milano fatto giorno in tribunale c'è la vittima il parete della vittima che appena arrivato appena finito di vedere il cadavere del suo figlio padre fratello arriva il giornalista lei perdona gli assassini di suo padre è deficiente ma come si fa fra la domanda del genere come si fa a farla e poi per il momento magari puoi fare per dieci anni fra la parte che secondo me nessuno può fare se lo perdona deciderà lui come Castanier padre il marito il nonno delle vittime di Erba è andato lui a Pasqua da Viglio Fede a dire io perdono gli assassini non chiedo giustizia ma li perdono ma l'ha scelto lui mica il dato di uno messo che l'avrebbe fatto sicuramente anche qualche anno si è trattenuto a dirgli dai perdoni cioè non è tempo per perdonare e quando una professora gli fa un'offenza e dopo tre minuti gli dice facciare la pace scorda adesso l'osso mi ha arrabbiato l'osso mi è in pace mi brucia mi ha detto figlio di puntata figlio di puntata allora è arrivato sorella mi brucia ha detto questa cosa ha detto da un altro non mi interesserebbe ma l'hai detto tu scusate ragazzi è tra virgoletto allora ma che stessa però fareste ci vuole tempo però è fondamentale la capacità di dimenticare perché se non dimentichiamo rimaniamo prigionieri della storia la storia diventa un cerchio e torniamo sempre lì torniamo ad esempio del nostro amico dei due amici se quando io incontro un esempio ancora più netto un addio tra fidanzati se quando io incontro questa donna la incontro magari anche con un desiderio di riprovare metterci insieme succede o può anche andare bene la seconda volta può anche andare in medio della prima anche perché è peggio se ci siamo lasciati i metodi se io quando vedo quella donna prima di vedere la sua bellezza la sua intelligenza il suo corpo il suo corpo che mi piace il suo corpo che desidero vedo sempre la scena di lei che sbatte la porta e se ne va rimando in questo loop in questo cerchio non esco più allora spezzare il cerchio la dimenticanza mi permette di spezzare il cerchio non sei più quella lì o meglio sì tu mi hai lasciato così ma il tempo poi è andato avanti quella scena non è più il fermo immagine tu sei quella che mi ha lasciato ma sì tu sei quella che mi ha lasciato però poi mi ha scritto però poi ti ho incontrato ma rimettiamoci insieme noi rimettiamoci insieme parliamo finalmente serenamente del perché mi hai lasciato ma sblocchiamo questa cosa questa cosa ragazzi è difficile di avere individuale figurati che noi popoli il popolo ebraico deve perdonare i nazisti sì è una bella frase molto intensa una cosa vuol dire allora dimenticare non vuol dire cancellare attenzione ragazzi non situazione tipica ci siamo lasciati ci mettiamo insieme funzionerà può funzionare benissimo ma se poi non parliamo ne più del fatto che ci siamo lasciati ci rilasciamo dopo poco quel fatto che ci siamo lasciati rientra nella nostra storia ci fa crescere non possiamo eliminarlo stiamo insieme nonostante il fatto che ci siamo lasciati infatti stiamo insieme proprio per il fatto che ci siamo lasciati e ci siamo accorti che non ce la facciamo la staremo senza atto io quando mi chiedo ma due che di volta non possono tornare insieme magari no magari sì e magari scoprire finalmente che loro è il grande amore oppure alcuni possono anche non aver bisogno di separarsi però il passato rischia di entrare in un circolo vizioso il dimenticare nel senso del non sentire più bruciare le fiorite del dire sblocchiamo il film ma quel fotogramma non ti permette di cancellarlo però andiamo comunque avanti è funzione della memoria dimentico per meglio ricordare perché non sono più lì non sono più lì con la tua faccia con la tua mano sulla mia faccia lo ricordo ma la mano non c'è più non mi fa più male non sento più il bruciore proviamo a mandare la mano e il problema è è possibile questo per le cose di cui stiamo parlando è possibile dimenticare questi grini è possibile dimenticare la Shoah è possibile dimenticare il fascismo nazico beh ci sono un paio di questioni utile primo c'è una differenza tra perdonare la persona e perdonare il collegamento è dimenticare perdonare io posso perdonarti se in parte dimentico il male che mi hai fatto non completamente se no io non lo perdono prima o poi faccio la cazzotti ma in parte va bene mi hai dato una sberra ma in questo momento voglio tornare il tuo amico non mi ricordo più mi ricordo che mi hai fatto male ma non mi ricordo più quanto mi faceva male e quindi sblocco il film il film riprende chissà dove magari andrà anche ancora male perché la vita non garantisce niente allora posso perdonare la persona ma il fatto in sé è imperdonabile cioè i crimini nazisti non si possono perdonare i crimini l'imperdonabile sono i crimini nazisti terroristi in questi trattamentati nella scuola hanno ammazzato i ragazzi in quella nella scuola di Peshawar hanno ammazzato i bambini quel crimine non è perdonabile diverso è la persona che ha compiuto quel crimine e vi faccio un esempio nel Sudafrica in Sudafrica forse lo sapete c'è l'apartheid e finito l'apartheid si è creata questa straordinaria commissione per la verità e la giustizia per la verità e la giustizia tutte e due scusate per la verità e la riconciliazione verità primo poi riconciliazione primo la verità tu hai torturato mia figlia sì perdonami intanto sì no ma non è vero ma lo facevano tutti ma io stavo soltanto a guardare allora che erano riconciliati può succedere che li vendichi no in Sudafrica gli atti del processo che ha portato alla riconciliazione sono traumatici c'è la vittima o il padre o il fratello della vittima davanti alla russino e c'è la russino che dice io ti chiedo perdono io ho sbagliato ho fatto una cosa imperdonabile sì e ha fatto una cosa imperdonabile ma io a te perdono ma quali sono le premesse primo che uno riconosca riconosca di avere con questo un errore secondo che uno chieda perdono lui direttamente rispetto a questi temi molti protagonisti non ci sono più non possono chiedere perdono e non ci sono alcune anche le persone adeguate ma quando si dice ma perché non dobbiamo dimenticare i crimini fascisti perdonare i crimini fascisti ragazzi in fine conti i colleghi scusate voi continuate resistenza resistenza i romani a Cartagine i romani a Cartagine hanno sparso il sale e oggi non c'è nessuno che dice di essere un antico romano e di esaltare quello che i romani hanno fatto a Cartagine dare qualcuno un po' fuori di sé non forse no? mentre oggi i neofascisti e i neorazisti non solo non chiedono perdono non solo non dicono che è stato sbagliato ma dicono o che non è vero quelli più bigliacchi o che ha fatto bene il problema è questo come si fa a riconciliarsi con i fascisti quando i fascisti hanno tutta altra intenzione di riconciliarci è come scusa ma hai dato una svella vorrei perdonarti bene vieni qua che te ne do un'altra questa è la situazione attuale dei rapporti badate ragazzi non sto parlando della destra quindi non sto parlando di Merkel destra inglese destra gollista francese destra liberale italiana NCD Forza Italia sto parlando di fascisti e nazisti che oggi non soltanto non hanno intenzione di chiedere perdono non soltanto non hanno intenzione di ammettere l'errore ma continuano a dire che è stato giusto ebrei al forno assassino i striscioni milanisti o interisti di orientini non è una cosa un quale ebrei stessa razza stessa fine e voi riconciliarmi con la gente lì e perché? e perché non riconciliarmi se vogliono farmi la stessa cosa io non sono ebrei vogliono farmi la stessa cosa allora c'è questa riflessione per fare la storia non è passata primo perché la storia benedetto croce diceva la storia è sempre storia contemporanea bellissima questa cosa se ti interessi degli egizi se ti interessi proprio degli egizi evidentemente hai un interesse per il tema della morte gli egizi sono il popolo che maggiormente ha fatto riflessioni sulla morte quindi pensi alla tua morte e a questo serve la scuola la scuola serve a darvi degli strumenti culturali di tutte le discipline scientifici e umanistiche per trattare le vostre angosce gioie paure speranze trattate culturalmente uno può trattare il tema della morte anche in matematica pensate a tutto il tema dell'infinito pensate a tutto il tema dei limiti di funzione pensate alla analisi matematica che studiate in quinta lì c'è l'infinito c'è la morte e c'è anche la speranza che finalmente è quella sintoma che vuole le linee e si incrociano uno può trattare il tema della morte di una gente del matematico il chimico il fisico il vaginale il chimica il tema della morte il chimico organica tutti i giorni del buon fronte ecco ma allora il tema è proprio questo parlare di questi temi partendo dal ricordo dal cuore ma agganciando il dono alla memoria facendo questo passaggio allora i nazisti non hanno chiesto perdona i nazisti continuano a insistere nella loro ideologia e a dire che tutto quello era giusto vi consiglio la lettura di un libro Helga Schneider Helga Schneider è una donna che è nata in Germania durante il nazismo e è riuscito in Italia per praticamente tutta la vita ultimamente scrive libri per bambini ma ha scritto un pari di libri che ho puntato molto bene anche per gli adulti ma i primi che ha scritto sono libri di voto di pubblico adulto e il primo libro in cui mi parlo penso sia il primo o il secondo che ha scritto si chiama Lasciami andare madre di uno tremendo ragazzi però però non si la storia è questa vera la mamma di Helga Schneider che aveva lei e un bambino più piccolo fratellino a un certo punto lascia la famiglia per andare a fare il cammino nell'SS siamo ragazzi naturalmente e la carriera la porta ad essere una delle aguzzini di tricampi di sterminio abbandona la famiglia immaginatevi i figli disperati e crescono senza mamma poi in realtà la mamma torna prende il bambino porta con sé la femmina proprio perché tu sei femmina invece di finisce la guerra la mamma non viene governata la figlia dice non voglio più bevetti vengo in Italia vengo in Italia faccio la scrittrice a un certo punto però dice lo schiaffo non fa più madre no vado e nel libro lascia andare madre racconta il suo incontro con sua madre 30 anni dopo la madre viene in ospizio è un po' rallebbiata però ha dei momenti di grande lucidità e a un certo punto la figlia le dice mamma ma perché hai fatto quelle cose lì ah gli dice mamma ma è vero che hai avanzato l'ebrea sì sì ma tu hai aiutato a scaricare l'ebrea a tentare a tatuarli a portare le cari ragazzi sì sì certo e guarda quello faceva anche bene perché ho ricevuto anche un elogio dal capo ma perché le hai fatte perché era giusto bisognava ammazzarli la ragazza è il caschino esce dall'ospizio se ne va non saluta la madre e la lasciata capite e questo è il tema il tema non è una ideologia un partito un gruppo politico una persona che ha commesso una atrocità e a un certo punto si è resa conto e ha chiesto perdono è un tipo che ha commesso una atrocità e dice ma va bene è così questo è un tema fondamentale è lo stesso tema per cui a volte mi domandano ma perché voi non volete i fascisti in Parlamento siete democratici in Parlamento c'è SEME il PD Forza Italia la Lega e la legge Mancino la legge Mancino tra l'altro ragazzi legge dello Stato non dice soltanto che non può sedere in Parlamento un partito fascista ma qualunque partito faccia anche solo minimamente propaganda razzista qualunque partito abbia dei manifesti elettorali dei programmi dove ci sono elementi di razzismo non potrebbe sedere in Parlamento lascio a voi tra le confrugge è una legge dello Stato non è una raccomandazione o una disposizione transitoria come quella della Costituzione però va bene ma perché i fascisti no? siamo democratici come in Parlamento c'è Forza Italia e c'è il PD partito fascista è difficile anche qui noi adulti dobbiamo piantarla di indignarci quando i ragazzi ci fanno questa domanda perché è un ragazzo che fa questa domanda è una domanda intelligente antifascismo la pregiudizzazione antifascista non è il malos ma allora io per esempio della partita di calcio perché facciamo una partita di calcio ma siccome siamo democratici e antifascisti giocano tutti è la partita di calcio più democratica del mondo è la partita di calcio più democratica del mondo ma io sono un po' scarso ma figurati dai vieni ci divertiamo ma io tengo a lì per la mia e la laiura ma c'è un po' anzi così puoi dire la tua passione ma io sono su una carrozzina su una sede a motelle non mi guarda troviamo il modo ti mettiamo tu passi la palla riesci comunque girando la calcio tutti giocano e io sono omosessuale non ce ne frega niente io sono musulmano perché ti pare che ci importi qualcosa basta che mi sai giocare anche che ti diverti io arriva uno voglio giocare con le mani ma non voglio fare il portiere io voglio fare il centro avanti e giocare con le mani siete democratici fatemi giocare nessuno farà invece giocare questo perché questo distrugge il gioco attacca la regola fondamentale del gioco se vuoi usare le mani va a giocare a quella a camestra quando i fascisti chiedono spazi al pubblico cioè chiedono di partecipare alla vita democratica sono gli stessi che dicono in modo molto chiaro che vogliono abbattere la democrazia tra poco il 25 aprile uno slogan che lo scuso devo dire una parola volgare ma la cito uno slogan dei neofascisti è il 25 aprile è nata una puttana e l'hanno chiamata Repubblica Italiana questo dicono nelle loro manifestazioni e poi però alla puntana vanno a chiedere e no sei democratica ma sei tu che non sei democratico sei tu che dici che la democrazia va abbattuta e chiedi alla democrazia di farti giocare a pallone pur sapendo che programmaticamente userai le mani questo ragazzi ha differenza tra il neofascismo e il neonazismo e la destra in generale la destra accetta le regole del gioco e mette in campo le sue idee che io posso condividere che io posso non condividere ma la destra dice se le idee hanno una maggioranza allora saranno diventando leggi se no cerco di fare propaganda pubblicità i nazisti e i neonazisti dicono le mie idee le impongo con la violenza perché io sono scusami io sono superiore a te anzi ma sono il contrario tu sei superiore a me perché sei più bello sei intelligente se abbiamo proprio che azzurri sono uno sfigato ebreo e sessuale che si muove di Gero a tutti proprio diciamo un rete americano un rete americano che è nero comunista emosessuale ed ebreo certo ma c'è però un po' mio insomma è uno delle quattro che mi viene vita il comunista siccome tu sei superiore a me la democrazia è assurda perché il mio modo non può valere quanto il tuo questo dicono esplicitamente lo fascista e poi però chiedono la democrazia correttamente la batti motivo per cui se tu a casa tua ti vuoi mettere un sabotaggio dei microfoni se tu a casa tua ti vuoi mettere la divisa di guardare i filmati dell'SS non dire i tuoi amici fare il saluto nazista e proclamare il quarto RAI a casa tua fai quello che vuoi in uno spazio pubblico no perché la democrazia si deve difendere da te mentre invece se SEL Forza Italia il PD il nuovo centro democratico e naturalmente non me ne ricordo tutti i 5 Stelle chiedono la sala del comune di Brescia siccome non andranno lì a dire queste cose dirà si dà ma magari diremo non siamo d'accordo con quello che dica vi contestiamo facciamo un manifesto uno scritto dite delle cose sbagliate lui mi ha iniziato con una storia fino alla vostra mi ha iniziato con Funes che non se ne può più di ricordare non se ne può più di ricordare mi mi scendo di casa ragazzo della vostra età sono 9 anni convinto antifascista democratico l'altro giorno l'altro giorno l'anno scorso 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 sono 8 anni che il 27 gennaio ascolto parlare a un deportato basta ho capito e non sottovalutiamo il pubblico soprattutto i colleghi non sottovalutiamo questo effetto funese non ha più bisogno forse ha bisogno di riflettere sull'oggi forse ha bisogno di riflettere sul fatto che vive in una città dove un disabile non si può muovere non può entrare nel palazzetto dello sport e questa non è uguale alla Shoah ma guarda caso i primi le prime rittime della Shoah sono stati disabili basta deportati li ha sentiti 8 volte la storia che vi racconta invece è una storia di memoria di un papà un adulto che fa un gesto di memoria per essere due figlioli piccoli prendo le scelte piccolo gesto di memoria che ha un gesto anche di ricordo siamo a Torino siamo nel 1938 e nel 1938 a Torino vivono i protagonisti della nostra storia una famiglia che era padre e madre e due ragazzini di 10-12 anni in sé 3 toti venivano promulgate le leggi razziali in Germania e anche in Italia che se ne dica gli italiani il fascismo con grande entusiasmo accetta le leggi razziali con grande entusiasmo inizia ad avere la caccia degli italiani anzi Hitler una volta disse che il razzismo l'aveva imparato da Mussolini tanto per e se l'ha detto Hitler che non è assolutamente poco razzista e questa famigliola i genitori ovviamente dicono allora prima di tutto salviamo i bambini a noi vabbè se anche ci ammazano ma i nostri figli salviamo e allora vengono a sapere che in un monastero in un convento alcuni frati nascondono dei bambini ebrei vanno a suonare al convento i bambini e dice frate si si dai lasciateli qua me li nascondiamo noi teniamo siamo tranquilli siamo sicuri che non li prendono poi papà la mamma immaginate in quale stato d'animo abbraccio i loro bimbi li lasciano lì vanno i bambini entriano in questo monastero e il giorno dopo proprio il giorno dopo i genitori non l'arrestare vanno a Torino le carceri nuove le carceri nuove di Torino le nuove delle torture fasciste non vanno ad Auschwitz riescono ad essere liberati tramite un giro tramite un giro tramite un giro tramite un giro che anche lui ha cercato di far modo di chiesa ha cercato di fare tutto il possibile per comporsi al fascismo gli fanno trovare quattro passaporti falsi due per loro due per i bambini o domani domani dovrete essere in Francia subito scappate che già è andata bene per i bambini i due otto mesi di carcere fascista escono e vanno subito a prendere i bambini vanno a prendere i bambini suono la mia prete ah sì sì adesso vi porto subito ah vero ho saputo mi raccomando scappate adesso vi porto arrivo i due ragazzini chiaramente abbracci baci immaginate questi due signori otto mesi di tortura il papà haciuto appunto abbracci sui bambini e poi dice state un attimo a ferire bambini adesso il papà mi deve insegnare una cosa e non parli molto un po' ostere un po' sedere molto amorevole ma anche con i papali una volta vi devo insegnare una cosa vi devo insegnare cos'è il fascismo cioè che sta scappando ha poco tempo deve spiegargli anche i passaporti dirgli che hanno un nuovo nome e ci vorrà tre ore anzi ci vorranno sei anni ma questo papà non fa una lezione di storia non fa una lezione di politica non fa citazioni non gli fa leggere un libro di Mussolini mette la mano in tasca del pantò e tira fuori un pezzo di pane una pagnotta una pagnotta che ha rubato la messa del carcere allora mio padre che era del 29 mi raccontava che in libertà cioè in giro io so di Como a Como mangiavo il pane fatto con la segatura fuori dal carcere immaginate cosa mangiavo il carcere era una roba immangiale prende questa pagnotta spezza di pane spezza di due e da un pezzettino al figlio un pezzettino all'altro dice mangiatelo fa schifo puzza ma dovete mangiarlo perché non lo dicevo a fare poi i due ragazzini mangiato masticano si fa quasi il vomito mandalo giù e papà gli dice che sapore ha schifo papà merda ma che schifo puzza mi viene il vomito bene ragazzi questo è il sapore del fascismo ogni due bambini Aldo Zargani scriverà questa cosa in un libro che si chiama Per violino solo questo episodio lo racconterà in un libro uscito una decina d'anni fa un po' di più racconterà questa storia e dirà per me il fascismo per il sapore poi certo ho studiato le cause politiche economiche ci mancherebbe per capire ma a partire da quel sapore ho pensato ma perché in Italia c'è stato quel sapore per vent'anni vado a studiarmi i testi la storia le testimonianze i discorsi del luce e a studiarmi e a fare diventare memoria questo ricordo iniziative come queste sono importantissime per tutti anche per noi che ci rincontriamo e ci aggiorniamo un po' sulle nostre ricerche e spero però che facciano vibrare quella corda dentro ognuno di voi ognuno è diverso per quello è difficile fare gli insegnanti perché ognuno ha la sua chiave di accesso la sua password l'anima di ogni ragazzo ha una password che a volte cambia anche durante gli anni in cui è stata a scuola per questo è difficile fare gli insegnanti ma per questo è il mestiere più meraviglioso del mondo e se più meraviglioso non si dice in italiano chi se ne frega lo stesso spero che iniziative come queste vi facciano vedere un sapore però e chiuderò vero non solo il sapore aspro schifoso puzzolente del fascismo anche il sapore dolce bello gioioso della libertà della democrazia del poter vivere serenamente non possiamo continuare a parlare di quegli anni soltanto sulle torture omicidi sciolà campi di sterminio per un motivo molto semplice che ha avuto i nazisti hanno perso e quello che ha vinto è il sapore della democrazia oggi sarà un po' una quadra saporà un po' di sale mi mancherà un po' di pecoroncino ma per il momento democrazia è e rimane con un sapore che sicuramente non è quello di quei due pezzi di pane grazie a tutti grazie a tutti